Circa 70 truffe ed imprenditori della provincia di Pescara, di Teramo, ma anche di Marche, Umbria, Emilia Romagna e Lombardia. Le attività illecite di un sodalizio criminale sono state portate alla luce dai carabinieri della Compagnia di Montesilvano dopo tre anni di complesse indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Pescara, che hanno preso il via a seguito di un paio di attentati subiti da un imprenditore di Città Sant'Angelo ad agosto e novembre del 2018. Un giro di affari con profitti illeciti valutabili in circa un milione di euro. Il bilancio è di cinque persone arrestate, tre in carcere, due ai domiciliari, 20 quelle denunciate. Gli indagati sono ritenuti responsabili a vario titolo di associazione per delinquere, estorsione, intestazione fittizia di beni, riciclaggio, truffa, appropriazione in debita, ricettazione, danneggiamento e porto e detenzione abusiva di armi. Il gruppo criminale aveva al suo vertice un pregiudicato pugliese ed era attivo a Pescara e Montesilvano. Il sodalizio acquisiva mediante condotte tipicamente estorsive varie attività commerciali attraverso le quali riciclare gli illeciti proventi delle attività delittuose. Una volta acquisite le attività commerciali venivano date in gestione a prestanome grazie ai quali l'organizzazione portava a compimento le truffe. Le indagini hanno consentito di arrivare al responsabile degli attentati ricordati in precedenza e all'esistenza del sodalizio il quale accantonava gran parte della merce provento delle attività illecite, beni commerciali, auto di grossa cilindrata e merci di vario genere in un capannone in provincia di Teramo per la successiva redistribuzione e commercializzazione in esercizi commerciali pescaresi molti dei quali gestiti da associati o all'estero in particolare in Albania. Gli ulteriori sviluppi investigativi hanno permesso di identificare tutti i componenti del gruppo i quali in alcuni casi sono responsabili di reati non connessi alle attività dell'organizzazione. Le indagini hanno fatto anche emergere che i membri del gruppo avevano a disposizione armi e munizioni sequestrate dai carabinieri nel dicembre 2018 a Cerignola in provincia di Foggia.